Ciao bamboli, allora, sono qui per fare il momento di Barbie Xenax litiga, nuova rubrica, direttamente qui su Instagram, poi copio e incollo probabilmente. Allora, buongiorno, benvenuti, è notte, è mezza notte e mezza, però buongiorno, buonasera, ciao. Volevo leggervi, comunque mamma mia questo filtro quanto mi allunga i denti, io non ho i denti così tanto lunghi, vabbè. Volevo leggervi un commento che mi è arrivato sotto un video di Bix Coven e io posso aprire un discorso. Allora, io sinceramente non mi sono mai permessa di lasciare commenti in cui dico, guarda, ti faccio una critica costruttiva, perché a volte, per quanto so tentata, mi rendo conto che dico, vabbè, ma io chi cazzo so per dire alla gente come deve parlare, cosa deve fare, aiuto, come deve gestire il proprio canale. E quindi me sto nel mio. Per carità, è giusto poter fare una critica e roba del genere, però io ho 35 anni e so distinguere, vi dicevo, e so distinguere quando c'è un po' la paraculata buttata lì, tipo, lo faccio per te e roba così, e quando è effettivamente una critica. Io, onestamente, credo sia più onesto, lasciare un messaggio acido e essere sinceri con se stessi e dire, oh, io che sto, me sta proprio sul cazzo questa, mo' io lascio sto commento di merda. E lì è un commento di merda, ma almeno capisco, però quando critiche costruttive e c'è una sequela di insulti messi un po' così dilacidata, costruttive, a steri. Allora, quindi vi volevo leggere il commento che mi è arrivato, che molto probabilmente molti di voi avranno letto nelle storie precedenti, non lo so, bamboli. Il commento inizia così, con, tesoro mio bello, innanzitutto, stellina de casa, ma che cazzo sei, vieni sul mio canale, sto a fare lavoro mio, tesoro mio bello, ma io che vado, che ne so, con me sta la cita di Sephora a dire, tesoro mio bello, ma sai che c'è qui una metà in faccia, ma vabbè. E mi dice, so che non ti piace avere critiche, anche se costruttive. No, aspetta, scusate, che cosa, so che non ti piace avere critiche, ma certo, ma chi è che gli piace essere criticato? Scusate, possiamo aprire questo discorso in piena onestà? Cioè, ma chi è che dice, oh, scusate, no complimenti, solo critiche, a me mi piace proprio la gente che mi dice, guarda, fai schifo, non mi piaci, hai sbagliato questo, questo e questo. Cioè, a tutti piacciono i complimenti, cioè, credo sia imposto, nessuno vuole essere criticato, però, purtroppo, a volte serve. Il punto è che non sempre servono, cioè, non tutte le critiche, semplicemente perché tu vuoi digitare qualcosa, non vuol dire che sia una critica, non vuol dire che sia effettivamente rilevante. Magari è una strozza da cura tua, stellina iliana. Vabbè, vado, mi sbrigo, altrimenti qua ci rimane un'ora. Tesoro mio bello, so che non ti piace avere critiche, tra parentesi, se non costruttive, tra virgolette, e in fondo, in fondo, manco quelle. Ma certo, e manco quelle, ma soprattutto, cioè, ma io voglio, dico, tutto è il buon cuore. Ma se io sto a fare sto lavoro da dieci anni, ma ne saprò qualcosa, e mo con tutto è il buon cuore, magari quelle critiche costruttive, so cose che io non posso fare. Dico, Marta, ti è saltato, hai sbagliato qui a montare. Sì, ho montato il video alle quattro di notte, o non usciva e non guadagnavo i sordi, oppure lo montavo bene il giorno dopo. Che se fa? Io ho scelto quella e paziente, quello che è. Quindi non è una cosa che posso cambiare, è andata così. Vabbè, continua. Ma io ti seguo da una vita, e te lo devo dire. E sti che azi, cioè, ma mo voglio dire, ma io se conosco una persona da un sacco di tempo, non vuol dire che c'ho confidenza. Cioè, io conosco Brittany da un sacco di tempo, non è che vada a dire. Allora, ma io ti seguo da una vita, e te lo devo dire. No, tu non mo dividi, tu lo vuoi proprio di perché te piace scrivere sta citata, te vuoi con piacere. Dimo se lo Eliana Stellina. Ma vabbè, impara a parlare meglio la tua lingua madre. Ti supplico che Dante si contorci nella tomba e a me viene un tic ogni volta che dici, ripeti, eccetera. O che sbaglio un verbo. A parte che eccetera se può di, ma mo voglio di, ma se può di eccetera. Suon, suon, lo dice, oddio dove viene il nome. Lo dice Zizec, no? Io ho un posto di eccetera. Capisco che non c'ho l'impatto di Zizec, però porca troia, pure io c'ho il diritto di poter dire, eccetera. Ma ora cosa c'è di non possibilitato di poter dire, eccetera? Cosa c'è di sbagliato nell'italiano di eccetera? Non si può di, ma vabbè. Sbagli i verbi. E vabbè. Ma sti che azi, Stellina. Ma me ne frega un cazzo a me, ma con tutti i video che faccio, ma secondo te devo stare a rifare il video perché ho sbagliato il verbo? Ma sti che azi. Punto. E arriva il nuovo discorso che inizia con Bella Mia, innanzitutto io non te conosco. Cioè, per quanto tu me poi avevi visto, pure nei momenti tuoi intimi, mentre stavi a accesso, io facevo ciao a tutti da Romar Vizianax. E roba così, io non te conosco. Quindi Bella Mia, ma che vuoi, ecco? Io non è che vado alla gente, Bella Mia. Non ti conosco, come ti prendi questa confidenza, cafona? Ecco. E mi dice, Bella Mia, ci sbatti in faccia la tua laurea e nemmeno ti preoccupi di renderla credibile. Credibile? Cioè, scusate, ma devo renderla credibile cosa, la laurea? Cioè, mo voglio dire, ma se io me la fossi comprata in qualche parte del mondo, la laurea, cioè, quelli saranno rendendo credibile. Cioè, in quel caso dovrei renderla credibile. La mia laurea già è credibile, già è reale, è lì. Toccate, se volete, va, mostro pure. La faccio vedere, fammo vedere. E' pure il momento pergamena, da triennale, quinquennale. Una rossa, una blu, non so perché, vabbè. Quindi, io perché dovrei rendere credibile qualcosa che è già reale? Se tu non ci credi, sti gazzi, cioè, ma, Elia, ma chi se ne frega? Ma, cioè, per me è un problema se non ci credi. Per me puoi pure credere, io sono alieno. A me che cazzo me ne frega? Secondo me Barbixanax è una proiezione, è in realtà un demone. E sti gazzi, credilo pure. Ma che me frega a me che devo rendere credibile sono essere umano. Ma che me frega? Vabbè. Ma chi te l'ha data? Roma 3. Te incazzi? Vai da Artizio che gestisce Roma 3 e vai a far tuo appunto. So, Eliana, che viene da, boh, posillipo alto, posillipo basso, non lo so. Non sono d'accordo col fatto che avete dato una laurea a Barbixanax. Se va, te la metta e non mi rompe i coglioni a me. Vabbè. Chi te l'ha data? Una commissione di fattori completamente in trip. Eliana, ma lo sai che questa roba è querelabile? Ma lo sai? Se vuoi io giro ai miei relatori. Magari te querelano. Gli hai dato i fattori in trip. Ma te dai una regolata. Eliana, piena di critiche costruttive, continua così, con molto tatto e gentilezza, perché mi segue da anni e quindi mi vuole un bene infinito. Cioè, guarda, Eliana, ti dico adottami, guarda, lasciami pure una casa di proprietà, altrimenti fatte un affanculo, e mi dice, nessuno si è mai reso conto che davi un esame o addirittura la tesi in questa lingua è decente? Guarda, probabilmente parlavamo, non lo so, in qualche altra lingua e tu, boh. Ma non è il lavoro tuo, il cazzo vuoi Eliana, scusa? E fai la professoressa? No, stai qui a vedere i video su YouTube a luna di notte, quindi probabilmente non fai la professoressa, che te devo dire? Probabilmente ti occupi di altro e lascia fare il lavoro loro all'altro, vabbè. Però, oltre che i YouTuber, Eliana sa tutto, sa come si monta, sa come si parla su YouTube, sa come fare la relatrice. Cioè, guardate, Eliana, io potete chiedere qualsiasi cosa, potete affettare il prosciutto e fa un panino, lei, veramente le lasagne di Cristo. Ora preparatevi perché arriva il bello. Mi dice, non prenderla come una critica cattiva, tra virgolette, penso di farti un favore a dirtelo, tu non sai parlare la nostra lingua. Ma come la nostra lingua, trattata come se fossi, non lo so, sbarcata, non si sa cosa. Cioè, ma quindi mi ha tolto la cittadinanza italiana, Eliana, perché non parlo un italiano abbastanza alto per lei, quindi non sono degna di avere la cittadinanza italiana, cosa sono una polide adesso, mi porta, mi fa deportare in un altro posto, in Eliana Land. Cioè, ma io sinceramente è la prima volta che mi succede una cosa del genere, ma poi tra l'altro, scusatemi, ma farti un favore a dirtelo, ok? Come mi aiuta questa cosa, Eliana, secondo te? Secondo te adesso io vado a fare il corso di italiano per stranieri, secondo te? Perché evidentemente quello devo fare, anziché prendere magari una seconda laurea. Corso di italiano per stranieri, per me... Ma soprattutto, un favore è una cosa che mi aiuta, onestamente, insultarmi e anche farmi questa critica con il tatto veramente di un elefante, come mi può aiutare? Dove è il favore? Siete che te volevi levare questa cosa? E fa, moglie schifo stacita da sta pezzo di merda di Barbixanax. Probabilmente è questo quello che hai pensato nella tua testa, ipotizzo. O magari una persona cattiva potrebbe ipotizzarlo. Io no, vabbè. Allora, ti invito a porvi rimedio. Quindi, corso di italiano per stranieri, me tocca. Eliana mi ha già iscritto, a mia insaputa probabilmente. Cioè, ci sarà una classe in cui ci sarà Barbixanax e l'appello, io non lo so. Vabbè, ci andrò. Faremo sto corso di italiano per stranieri, che te devo dirgli? Ti invito a porvi rimedio e, virgola, no, anzi, porvi rimedio, virgola, non è mai troppo tardi e, virgola, io, sinceramente, che io sappia, è sbagliato, ecco, visto che teoricamente sono superflui, licenza poetica, però, insomma, non è proprio correttissimo. E se fai un commento dove, oh mio Dio, questa cosa in italiano non è giusta, non è ok. A te che aspiri a fare questa professione è fondamentale, dal momento che ho notato che nemmeno l'inglese ti viene poi così disinvolto. Cioè, ma, fondamentale per la mia professione, cioè, la professione che lei crede che io ambisca a fare, cioè, cos'è? La critica cinematografica? Eh, ma io ce l'ho già riuscita a fare questa cosa. Eppure, in maniera abbastanza eccellente, visto non magari per la qualità, ma per, diciamo, le potenzialità, visto che quasi tutti sono sottopagati, riesco a camparci. La youtuber? Eh, ce riesco a camparci, che cazzo vuoi, Elia? Te vengo a chiedere i sordi a te? No, quindi, che vuoi, ecco? E poi l'inglese non è nemmeno disinvolto. Ma quando mai parlo in inglese su YouTube, scusate? Parlo una parola e, cioè, tutto in italiano, poi una parola in inglese? Ma come? Ma che vuol dire? Cioè, vabbè, vabbè. Eliana però sta, Eliana sa tutto. Eliana vi controlla! Vabbè, Eliana non si è resa conto che, cioè, evidentemente pure se faccio schifo so già riuscire a fare quello che devo fare, quindi le sue critiche sono inutili, è semplicemente lei che tenta di dare una visione più aulica a lei che vuole un pochino rompere le scatole. Ma, dice, scusa se ti ho infastidita con queste osservazioni. No, non so scuse false, perché te volevi proprio romper cazzo, Elia. Quindi non è che scusa se ti ho infastidita, se sai che mi hai infastidita non lo scrivi, scusami. Quindi che fai? Lo volevi infastidì. Quindi scuse false, tutte così. Oh, scusa se ti ho detto che, insomma, oggi stai vestita di merda. Eh, vabbè, vabbè. Scusa se ti ho infastidita con queste osservazioni. Ma avrei aperto e seguito molti più i tuoi video se solo avessi avuto un lessico migliore. Eh, sti cazzi, battene a fanculo, Eliana. Cioè, ma, non voglio dire. Cioè, ma, non mi piace? Pazienza, vado via. Poi, scusami, mi segui da una vita? O te c'hai fatta abitudine, oppure non mi segui? Con tutto il buon cuore, il fatto che io faccia dei video e la gente mi segue, non vuol dire che mi può trattare di merda. Esattamente come io, cioè, se voi avete una signora che vi aiuta nelle pulizie, non è che perché voi la pagate la potete trattare di merda. Eh, però qua... Roba così. Cioè, pure se gli dovete fare degli appunti, lo fate in una certa maniera. Oppure, se non vi piace, prendetela, cambiate. No? Cioè, così funziona la vita nel mondo reale, non su internet. Ma vabbè. Oddio, se avessi avuto un lessico migliore, sti cazzi, Eliana, vattene a vedere l'attima che va da me. Ma lasciami in pace, non rompimi i coglioni, ecco. A volte, fermo i video a metà, perché dopo troppe ripetizioni e errori di grammatica, mi diventa insopportabile. E sti cazzi, cioè, è pieno dei video true crime, vattene a vedere quello che ti piacciono e non rompimi le palle. Scusa, che problema c'è? Cioè, te devo proprio piacere io, devo cambiarmi perché così sei contenta? No, ci sarà sicuramente il canale che ti piace di più. Vai, tranquilla e non rompi i coglioni nessuno. Però arriva pure il complimento. Vinto complimento dopo tutta la merda e mi ha buttato addosso. Elogio la tua capacità di stare sempre sul pezzo. Credevo di stare sempre sul cazzo, che onestamente, visto il commento, c'è, stava più a fagiolo, vabbè. Stare sempre sul pezzo e di offrire contenuti spesso inediti. Ma preferisco eloghi più semplici, scorrevoli e corretti. E sti cazzi, vattene a guardare quelli. Non ce l'hai? Ti attacchi al cazzo. O te guardi sti video e stai zitta, oppure non ti guardi. Cioè, non è che te obbligo, eh. Non è che i miei video arrivano sotto casa, proiettati sul casa di Eliana. O ti guardi, o ti guardi. Cioè, internet è pieno di video e tu devi proprio vedere i video miei per rompere il cazzo. Boh, vabbè. A volte le imitazioni superano il lungo e largo l'originale. E guardate quelli! Cioè, ma io voglio dire, ma se c'è una cosa che ti piace, ma fatta a guardare quella, perché mi devi rompere le palle a me? Cioè, non è che io entro dentro sempre e dico, eh, però da dico, da, i prezzi sono migliori, eh. Il rim, il mascara è più buono quello dall'altra parte. Cioè, quelli me fanno volare. Però preparatevi, perché qua arriva proprio il bello. Cioè, lei mi ha detto tutto sto commento in cui mi dava dell'ignorante. Ignorante detto così. Allora, preparatevi, 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 perché c'ho la bomba. Ha fatto un errore grammaticale enorme, ma vabbè. Vabbè, a volte le imitazioni superano il lungo e largo l'originale. E forse, virgola, soltanto virgola, perché gli stessi contenuti sono espressi meglio in un italiano più corretto, scandito e senza correre. E lo sapete come ha scritto un italiano? L'ha scritto un apostrofo italiano. Cioè, tu mi fai un commento lunghissimo in cui mi caghi il cazzo sull'italiano, mi dai degli ignoranti, e poi non sai che un è maschile e non vuole l'apostrofo. Io vi giuro, credo di stare scendendo in un altro status, oltre il fatto che c'ho i capelli sporchi. Cioè, ma davvero? La nostra cara Eliana scrive un italiano così. Ecco, tutto lo schermo sporchissimo. Un italiano con un apostrofo italiano. Un è maschile e non vuole l'apostrofo. Carissima. E mo voglia di... Cioè, allora, i miei errori di 18-50.000 video, 700 video scritti, montati, registrati, roba del genere, sono la prova inconfutabile del fatto che io sia ignorante e devo andare a studiare l'italiano. Però, ovviamente, tu devi fare una cosa, un commento, non 50 video, un commento. Un commento in cui da scuattiti devi insultarmi e almeno in quel video in cui mi critichi per l'italiano almeno tenta di curare quella cosa di per sé, che tenta di scrivere bene, rileggi. No, manco quello. Allora, tu puoi evitare, puoi fare questi errori, ovviamente hai un errore di battitura, roba del genere. Io però, se faccio degli errori nei miei video, ovviamente sono la prova inconfutabile del fatto che io sia una merda. È comodo così. Molto comodo, stellina. Ma lei continua. Un italiano più corretto, scandito e senza correre, tra mille virgolette. Non so che vuol dire correre. Vabbè, effettivamente, se corro, vabbè. Dopo intenderà effettivamente così. Non sa mettere le virgolette, ma vabbè. Puntini, puntini. Non la metto la modalità per due. In realtà sarebbe 0,50, perché se devi rallentare 0,50. Per due è la velocità. Però anche qui, Eliana, cioè, tu fai tutto sto cosa in cui da scuola, tu non capisci un cazzo barbixana, ora si insegna a vivere e sai manco a scrivere due cose. Ma ricontrolla. Un commento devi fare. Cioè, io se lasciassi così tutti i miei video, non lo so, mi denuncerebbero. Non la metto la modalità due per. Dovresti essere tu ad adeguarti alle orecchie di chi ti ascolta, non viceversa. Cioè, io effettivamente dico, scusate, non riesco a parlare più lentamente. Ma pure se fosse non ti vai adeguare le orecchie di chi mi ascolta, ma chi ne so chi mi ascolta. Cioè, mi ascolta non che persone non udenti, per quanto sia strano per Eliana. E ci stanno i sottoditoli, se li fa automaticamente YouTube, io non ho il tempo per farli, purtroppo. E quindi, Aria, Eliana, se non ti piace, purtroppo, cioè, vai altrove. Io non me la pento, però non me lascia insulti. E poi continua. Anche perché è un tuo limite. Cioè, sei impegnata nel mettere l'accento giusto a perché, ma non a ricontrollare un italiano. Ma Eliana, che onestamente sta cagando un pochino fuori dal vaso, e onestamente Eliana, vattene proprio a fanculo, detto proprio così, mi scrive, continua e scrive. Se ti ascolta, no, no, scusatemi, anche perché questo è un tuo limite. Sei capace, virgola, in effetti, virgola, di parlare ad una velocità umana, virgola. Quando Amazon ti paga, è un lavoro pagato molto di più rispetto alla tua taccagneria, caro Eliana. Cioè, tu me paghi per questi video? No, quindi devo pagare, devo guadagnare sulla monetizzazione. La monetizzazione, quindi che cosa richiede? Richiede più video, e quindi meno controlli. Se tu ti abbonassi, cari Eliana, io dovrei fare meno video, potrei controllare maggiormente i miei video, potrei riguardarli dopo averli montati, e potrei anche causare queste cose, ma onestamente io questa fatica non la farei per te, per te te darei un video del merda, visto che non paghi niente, critichi pure e mi offendi pure. Quindi, video del merda. semplicemente per fatto che avevi accesso, che ne so, io faccio, ciao a tutti, saluto per TikTok. Solo quello. Cioè, ti farei pagare, perché non ti meriti i miei video gratis. Cara Eliana, e poi, ah, come ti paga Amazon? Certo, quello vuol dire che so, che sono una persona che lavora in maniera professionale. E quindi, anche tutto il discorso di prima, ti aspiri a fare questa professione, devi fare così e cosa? Già lo faccio, sono già brava. Vaffanculo Eliana! Ecco, fa pure rima. Vabbè. E poi, in realtà, anche lì a volte parlo troppo velocemente, però, allora, sta bene, non mi hanno mai criticato su questa cosa, quindi, che cazzo vuoi dire Eliana? Ne capisci, ne hai più dei miei datori di lavoro, più dei miei relatori? No, stai qui a commentare a lunedì notte, quindi, se ne hai disperata quanto me, vabbè. Quindi, è solo una mancanza di rispetto verso quei pari scemi che si trovano a cliccare sul tuo canale. Grazie. No, non è una mancanza di rispetto, questa è una mancanza di rispetto, cara. Se io, con tutta la cosa, scusate, io non riesco a parlare più piano, mettete la rotellina, cioè, più di essere gentile così, ma che dovevo fare, ma che me dovevo prostare, perché te, c'hai il culo pesante, cara Eliana, è l'unica cosa che fai, cliccare sul mio video, non pagare un cazzo, e, mi insulti, semplicemente perché parlo velocemente. Credi di poter essere questa cosa, e dire, mancanza di rispetto, mancanza di rispetto a questo cazzo di commenti, che tu ti senti in diritto di poter lasciare a me, chissà quanti altri, semplicemente perché, perché stai qui a consumare dell'intrattenimento gratuito, senza spillare nemmeno un euro, cioè, ma, nella vita reale, se tu ti rivolgi così alla tizia, che cazzo ne so, ti sta a portare caffè e latte sul tavolino del bar, cioè, ma sai dove te li trovi? che ha la faccia di urcemento, sinceramente, ti danno una pizza in faccia, nella vita reale, tu così non te ce poi, forse è proprio per questo, perché tu nella vita reale, sei una persona che non vale un cazzo, e quindi, qui, te credi che potrei insultare a tutti, proprio perché, probabilmente, non si fa niente. Qui, l'unica cosa che dovevi fare, era lasciare un commento di insulti, in cui teoricamente me dovevi spegne, che hai fatto, ma hai criticato per l'italiano, e hai fatto errori di italiano, di grammatica, e non si fa un cazzo allora, che critici l'artigenza, non fa un cazzo come te, ma, per me te io, cioè, io non è che vado in giro a dire, guarda io sono meglio di te, vado a insultare la gente che lavora, e dico, guarda io faccio questo, 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 mai per me se fanno una cosa del genere, mai, perché? Perché, evidentemente, c'è un minimo di rispetto, per quanto sono a rompi i coglioni, c'è un sacco di rifetti, ma sarò poi non ce l'ho, e, utilizzare anche la mia professionalità, contro di me, ma non è che, mancanza di rispetto, perché, tu ti vuoi fare rodere il culo di un video che clicchi sopra, ma dove siamo messi, ma che cazzo c'è nella testa? Boh, vabbè, quei poveri scemi che cliccano, guarda, quelle persone che mi seguono, onestamente, non sono dei poveri scemi, però ti posso dire, che, evidentemente, se tu ti senti così, chi sono io per contraddirti? Ma vorrei delizzarvi con un'altra chicca, ovvero, cliccare, scritto così, cliccare, cliccare, con le k, cliccare con le k, Eliana, cliccare con le k, tutto questo discorso sull'italiano, l'inglese, cliccare con le k, e non c-h, c-k, come poteva essere tradotto dall'inglese, ma da doppia k, ma io dico, ma se io vado a criticare qualcosa, tento di, almeno, non fare figure di merda io, in quella cosa che vado a criticare, vabbè, il commento successivo, perché non contenta, ha detto, no, sai che ti dico, ora voglio strafare, mi scrive, ho cominciato a guardare il video, e mi sono chiesta, ma tu lo hai mai letto, il candido di Voltaire, e il candido di Shasha, no, il candido di Shasha, non l'ho mai nominato, non l'ho mai letto, ho letto il candido di Voltaire, e mi ha fatto schifare il cazzo, onestamente, la parte più fondamentale, super italiano, più fondamentale, più iconica, è quando gli magnano la chiappa alla vecchia, sa la magnano, cucinano la chiappa alla vecchia, bellissimo, guarda, mi ha proprio fatto astrarre, a livello spirituale, guarda Eliana, bello eh, libro, che sinceramente, io ho ritenuto mediocre, già quando avevo 15 anni, probabilmente, perché il mio livello, era già più alto, caro Eliana, visto che leggevo cose, che secondo me, erano più stimolanti, tipo l'anticristolinice, onestamente, ci capivo con granché, quasi niente, c'avevo 15 anni, cazzo ci volevo capire, però onestamente, il candido di Voltaire, mi aveva fatto schifo, mi era piaciuto molto di più, al ritroso di Wisman, però Eliana, questo è un altro conto, e come ti ho detto, io questi libri li ho letti, cioè, insinuare che io non abbia letto questi libri, onestamente, ma, ma, cosa ti dà, cioè, effettivamente, cosa ti dà, io ti ho detto, se vuoi, ti posso fare una lista, e magari possiamo anche prenderli, tutti questi libri in biblioteca, e ti sbatto in faccia, però pesano, sono tanti, ho letto tanti libri, magari non ci ho capito un cazzo, però li ho letti, li ho letti davvero, e ti spengo quando voglio, infatti, io sono qui, faccio contenuto sul tuo commentino di merda, ti ho fatto fare una figura del cazzo, che è fatto tutto da sola, però, non c'entro niente io, vabbè, ciao, scusate, risparmiatemi anche la cosa, non ti dovresti arrabbiare, dovresti ignorare, no, sta gente va messa al suo posto, nessuno si può permettere, è andata la gente a trattarla così, ma che società buzzurra è diventata, ma io non mi sono mai permessa di lasciare commenti da gente, alle persone, mi maden si è mai permessa di parlare così alle persone, i miei genitori mi hanno insegnato a parlare così alle persone, a meno che non mi veni da romper il cazzo, lì, lì mia, è autodifesa, però, il punto è che, effettivamente, c'è un imbruttimento generale, di persone che si credono di poter dire determinate cose agli altri, di poter trattare gli altri come pezzi da piedi, amore, il fatto che io sto su internet non vuol dire che tu me vuoi trattare veramente come se fossi, non lo so, un essere meno umano di te, e onestamente, se tu sei pure un essere, non proprio superiore a me, ma possiamo dire anche, nemmeno il più sveglio della specie umana, è stellina, da becchi, è proprio, sta figuraccia, that's it.